Domenico Manzo, segretario cittadino del PD, che aria si è respirata in questa campagna elettorale? Ormai siamo alle battute finali. Io sono orgogliosamente fiero di essere il segretario cittadino del PD. Abbiamo condotto una campagna elettorale sobria, così come ci induce il momento economico. Siamo stati tranquilli, abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo parlato con le persone e questo è stato il nostro vantaggio maggiore. Abbiamo messo in campo il progetto più giusto per rilanciare la nostra città e l'abbiamo fatto con tutto il cuore, perché noi amiamo questa città. Cosa pensa del ballottaggio Canfora-Crescenzo? Era il più duro che mi aspettassi, perché il competitor Crescenzi è tosto, è un politico, è uno che ha fatto politica da tanti anni, quindi è quello più duro che mi aspettavo. Però noi ce l'abbiamo messa tutta e continuiamo così per la nostra strada. Siamo cautamente ottimisti. Vuole fare un augurio al suo candidato sindaco? Certo, in bocca al lupo e da domani mattina saremo già al lavoro per rimettere in piedi questa nostra città.